Nell'universo c'è materia e antimateria. Quella che calpestate a terra è solo luce riflessa. Ti ho portato a casa, però adesso chiamiamo l'ospedale. Metti via il telefono, non chiamare nessuno. Devo chiamare l'ospedale per forza. Ti ho detto, metti via il telefono. Forse devo andare alla polizia. E dire cosa? Che hai aiutato un delinquente. Senti, ma se mi viene a cercare? Voi ce l'avete un nemico? Che ne so, una persona qualunque che le rende la vita impossibile. Un parente, un collega, chiunque. Noi lo troviamo e poi lo uccidiamo. Perché? Che lavoro fate? Io per campare uccido. Mamma, sai cosa mi è successo stanotte? A te non succede mai niente. Ma che bella famiglia che siamo. Dai, ci fanno dire. E comunque a me questo video non mi convince. E già sta sulla mia lista. Guarda là. Al secondo posto sta il ladro di stelle, Claudio Petrazi. Sai che sei veramente uno stronzo? Qualcuno dovrà farlo. Devi stare molto attento. E indovina un po' chi ci sta al terzo posto. Il rettore. Eccoli dove vanno a finire i tuoi soldi per la ricerca. Che faccio? Lo sistemo il porcellone. Come avviene tecnicamente? Guardala, guarda bene. Ci sono due pescatori. Che cazzo fa? Io non ho nemici. Se gli do 30.000 euro vai via o no? Fai, fai lo spiritoso. Tanto prima o poi il tuo nemico lo troviamo.